Allora, giovani amici di Facebook, dovremmo esserci? Sì, sembra di sì, sembra di sì Giro solamente un pochino la camera che mi piaceva il panorama Così, no? Fai rosicare il panorama Se non si vede un caffè, no? Dai, si vede, guarda lì Si intravede qualcosina Qualcosina, dai The skyscrapers Allora, benvenuti a Chicago Chicago, come dicono gli americhani Siamo arrivati ieri, nel primo pomeriggio Viaggio interminabile Gran tirata, come al solito, via Amsterdam Purtroppo non ci siamo fermati ad Amsterdam A fare quello che volevo fare Ma è uguale Siamo arrivati, appunto, nel primo pomeriggio Cosa abbiamo fatto subito? Non mi ricordo più Ho un vuoto di memoria La prima cosa che abbiamo fatto È stata venire in albergo E aspettare la conferenza degli azionisti Era in corso Mentre arrivavamo in macchina Che è durata un'ora e mezza Un'ora, un'ora e mezza È abbastanza distante Funziona tutto quanto, mi sembra Perfetto, si controllava Direi che c'è anche l'audio Diteci se c'è anche l'audio Ma direi che funziona Sì, sì, se non ce l'avrebbero già detto Nonostante ci sia anche Roby Però, visto che ci sono anche io L'audio funziona Esatto Marborani si bilancia con Moro No, stavo dicendo Mentre eravamo in macchina Per il trasferimento dall'aeroporto all'hotel È partito la conferenza per gli investitori Disney Fortunatamente la prima ora è stata abbastanza inutile Sì, sì, gli amanci L'abbiamo sguarducchiato L'indiano che parlava dell'India Il francese che parlava del francese Della Francia Poi non è vero Non so L'italiano che parlava dell'Italia Siamo arrivati in albergo E ci siamo visti invece la parte finale Che è stata la parte più interessante E adesso vi faccio vedere anche qualcosa Visto che ne parliamo proprio Diciamo il primo argomento di questa diretta Poi avremo sia di Disney Plus Con tutti quanti gli ultimi aggiornamenti di ieri appunto Dalla conferenza per gli investitori di Disney Molto interessante È uscita la data Hanno mostrato l'interfaccia del servizio È uscito il prezzo Per cui adesso ne parliamo per bene Disney's Investor Day Esatto La giornata degli investitori La fanno tutti quanti gli anni E poi dopo parliamo invece della giornata di oggi Alla Celebration Visto che qua in mattina in realtà sono le 8 di mattina Mentre da voi sono le 3 di pomeriggio Esatto Quindi più tardi ci saranno i primi panel della Celebration In particolare il primissimo panel Che è il più interessante di tutti Probabilmente Il più atteso Il più atteso Episodio 9 è alle 11 Alle 11 Alle 11 Sono le vostre 6? 7? Mi ricordo più Mi sembra di sì Aspetta sono le 8 Sono le 3 Più 3 Sono le 6 Le 18 Le 6 Inizia le 6 in Italia Adesso vediamo se fare un'altra diretta Subito dopo il panel Probabilmente Perché quelle messe prima del panel La faremo appunto adesso E' questa qua Prima di parlare però di Star Wars Parliamo di Disney Plus Vi metto Guardate come siamo tecnologici Vi metto A parte noi che continuiamo a parlare In alto a destra Ci vedete Sotto gira questo video Che è la demo Che hanno mostrato ieri Proprio paro paro Non dura tantissimo Dura 2-3 minuti Spero che vada in loop Dovrebbe andare in loop E vi mostra appunto Come sarà fatto Disney Plus Avete visto Quindi 4 aree 5 aree principali Con diciamo Le property Non solo le property Diciamo i brand principali Di Disney Quelli di cui Sanno già Di poter contare subito Esattamente Quindi queste 5 tile Questi 5 piestrelloni Le vedete in alto Adesso Disney Pixel Adesso purtroppo Non riesco a controllare Io questo video Andrà all'infinito Qui a sinistra Vedete il menu principale In cui ci sono anche Diverse Diciamo categorie Di contenuto Per cui movie series E originals Originals Quello che vediamo ora Sono i contenuti creati Originali Solamente per la piattaforma Un po' come sono I Netflix originals I parallelismi con Netflix Sono molteplici Sono proprio infiniti Nel senso Gli erano proprio fatti in faccia Dall'inizio alla fine Proprio uguale identico Non va in loop ovviamente Era troppo bello Chiedere che andassi in loop Vediamo se riesco Ah ecco C'era un checkbox Un checkbox loop Che non avevo ceccato Adesso dovremmo Vedercelo in loop Vedete in alto Adesso subito Disney Pixar Marvel Star Wars E National Geographic Questi sono diciamo I contenuti principali al lancio Non si è parlato per niente Di contenuti Fox No Probabilmente perché In realtà dopo Sono saltate fuori Delle immagini In cui c'erano anche Ah no giusto È vero Non è vero Invece sì Si è parlato Delle 30 stagioni Dei Simpsons Che arriveranno Di Avatar Ma mi sbaglio io Volevo dire che Non c'è Fox Come diciamo Piastrellona In One Piece Ma probabilmente Semplicemente perché Questo mega mockup L'hanno fatto prima Che finisse L'acquisizione di Fox Sì E poi comunque Adesso dovranno Riportarsi a casa Tutte le proprietà Per cui ci vorrà un po' Cos'è che suona? È la mia sveglia Sul telefono Se posso credere Me lo annulli Piero ce la fai? C'è ancora Siamo in diretta? Siamo in diretta Sì No Secondo me va in blocco Come? Esatto Secondo me è andato in blocco Adesso funziona Adesso sì Mi è suonata la sveglia Scusate Morborani Morbomoro Incredibile Un po' di sfiga ci voleva Stavo dicendo che Quindi Le vedete ora Queste cinque aree Che si animano Quando si va sopra Carino Carino Mi ricordo il porno Quando vai sopra Vero? Ma anche Netflix In realtà Da un punto di vista Del design Insomma Non c'è niente di innovativo È piuttosto vecchio Sicuramente molto rassicurante E facile da usare Perché l'abbiamo già visto mille volte E quindi è tutto quanto molto intuitivo Semplicemente perché appunto Siamo già stati abituati A altri 20 servizi Che sono in questa maniera qua Identica Tunnel dei contenuti Scorri i contenuti Dividi per categoria Eccetera eccetera È veramente molto semplice Non sono inventati proprio niente Anche perché ricordiamoci Che il target Disney Probabilmente non è lo stesso Netflix Deve essere Un po' più giovane Da tutti Famiglie Per cui insomma Ci sta Mi sono insegnato un po' di cose Che potrebbero interessarvi Intanto prima di questo qui Ho detto un dato Che secondo me è molto figo Cioè dal 2006 Hanno prodotto 44 film E hanno fatto una media Di 850 milioni Di incasso A film Alla faccia Cioè di media Di media 850 milioni Su 44 film Quindi su tantissimi film Quindi tanta diciamo Probabilità che un film Vada male Per intenderci Oltre che vada bene Nonostante quello La media è 850 milioni Super Disney Proprio imbattibili Mi sono segnato altre cose Su Disney Plus Interessanti Tutti i contenuti Saranno scaricabili Come avviene su Netflix In realtà su Netflix Avviene solamente Per i contenuti originali Quelli di cui hanno Le licenze principali Per cui su Netflix Alcune cose Non sono scaricabili Invece il presentatore Ha proprio voluto Sottolineare più volte Sta roba Che invece Da noi Tutto quanto Sarà scaricabile Perché ovviamente Se è su Disney Plus Ne hanno i diritti Al 100% Esatto E quindi possono farvelo scaricare Non si è parlato Dell'inserimento Di prodotti Di terzi Per cui No Assolutamente Per cui Finché sei abbonato Ce lo puoi avere lì Scaricato Non scade mai Lo guardi offline Quando ti pare Come ti pare Bla 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 I contenuti principali Original Saranno in 4K HDR E vorrei anche vedere Quindi Ok benissimo Più anche gli ultimi film Saranno in 4K HDR Non è molto chiaro Cosa lo sarà E cosa non lo sarà È evidente che Se ce l'hanno in 4K Lo mettono in 4K Se invece è un contenuto vecchio Che magari si mette in Full HD Si vedrà in Full HD Ci sarà un sistema di raccomandazioni Come è su Netflix E come è un po' ovunque Su Netflix Diciamo il più famoso Però ci provano tutti A fare le raccomandazioni Basiato su che? Basiato sui contenuti Che Non ci posso credere Che è già Fai termina Non rimanda Ma c'è solo la barretta Non c'era niente Dovevo solo C'era la notifica Sul lato E in alto Non c'era nessuna Esatto Non c'era terra Maledetto Ci siamo ancora? Sì ci siamo ancora Ma siamo Siamo un po' scemi Stupidera Doveva capitare È tornata la stupidera Ok Sveglia di merda A posto Dovrei averla tolta Ok grazie Piero Abbiamo anche la Valletta La Valletta Stavo dicendo Che eravamo costretti A svegliarsi Che stavo dicendo Ok recommended Sistema di raccomandazioni Basiato su quello Che avete già visto Ovviamente E immagino anche Sulla profilazione Del vostro utente Quindi Sesso e età Blah 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 Immagino Non hanno specificato nulla Avranno anche Sistema ovviamente Di profili Esattamente come Netflix Per cui Quando lanci Disney Plus E entri dentro Il tuo profilo Puoi creare un profilo Per ogni appartenente Alla famiglia Per cui il bambino C'ha i contenuti Consigliati per i bambini Magari limitato A 18 anni La raccomandazione Non è il voto Che su Netflix È raccomandato 98% 100% Sì è basato anche su quello È basato sul voto Però il motore di raccomandazione Allora intendono Il motore che ti consiglia I contenuti Ah ok ok Vedi che c'è Recommended for you Proprio adesso Si adatta Si adatta alle tue scelte Esattamente Recommended for you Quei contenuti lì Li sceglie In base a quello che hai già visto E a cosa hai votato Come l'hai votato Bla 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 Ho capito Ci sono già delle domande Tra l'altro Sì infatti Però finisco un attimo Le mie note Così so che vi ho detto tutto I profili Ve l'ho appena detto Ovviamente Il motore di raccomandazione Sarà legato al profilo corrente Si potranno creare Infiniti profili E i profili per i bambini Potranno essere limitati Con No I contenuti per i bambini Sì sì esatto Le piattaforme su cui arriverà Hanno mostrato un'immagine In cui c'erano tutte Qualunque roba Tutte tra le console principali Tutte le smart tv principali Sony Samsung LG Panasonic Apple tv Amazon Stick Box vari Roku Switch Sì sì esatto Tutte le console l'ho detto I computer Sia OS X Che Windows quindi c'era questa immagine in cui c'era tutto quanto, però ovviamente lui ha specificato che in realtà per adesso gli unici accordi davvero presi sono quelli con Roku e la PlayStation 4, e ovviamente ha detto siamo confident, cioè contiamo sul fatto che da qui al lancio, che adesso vi dico anche quando è, invece chiuderemo tutti quanti gli altri accordi. Vediamo, in realtà politicamente Disney è abbastanza vicino a tutti, perché per l'Apple TV Iger, il CEO di Disney, è dentro il Consiglio di Amministrazione di Apple, non credo che Apple si metta così tanti bastoni tra le ruote di Disney Plus da dire non sarete sulla nostra Apple TV. Vedremo, forse Amazon potrebbe rompergli i coglioni, vedremo comunque. Quando arriva, arriva il, non me lo so scritto, fine novembre negli States. 19 novembre negli Stati Uniti e invece hanno fatto tutto un pippone, un preambolo, perché sapevano benissimo che si sarebbe creata la polemica su questa roba qua, sul fatto cioè che non lo lanciano in tutto il mondo nella stessa data, che sarà un problema inevitabilmente. Soprattutto per la pirateria. Per la pirateria, perché ovviamente loro lanceranno dei contenuti originali il 19 novembre, tipo Mandalorian, ma tipo il 16 novembre, tipo Mandalorian o tipo altro, solamente in America. Noi ce lo scarichiamo, ce lo guardiamo, finché non arriva Disney ce l'ha un po' nel di dietro. Perché dico questo? Perché invece nel resto del mondo arriverà scaglionato nei due anni successivi. Il primo ad averlo sarà un generico Western Europe, in cui ci dovremmo essere anche noi, in cui hanno scritto semplicemente Q1 barra Q2 2020, che vuol dire entro giugno 2020. Primo quarto, secondo quarto. Entro giugno, entro giugno. Quando scrivono così solitamente è giugno. Però è già tardi, è già tardissimo, abbiamo già visto tutto. 6-7 mesi dopo, sempre se c'è l'Italia. Tutto questo in base a, stavo dicendo, hanno fatto questa intro molto paracula, in cui dicevano giustamente questi territori li abbiamo scelti in base a dove sono disponibili i nostri contenuti principali. E per disponibili intendevo ovviamente non venduti ad altri, perché come sapete adesso i contenuti Disney sono sparpagliati in tutte le piattaforme. Netflix si è cominciato a togliere un sacco di roba. Quindi ce l'ha un po', che ne so, Skype, per parlare dell'Italia, ma in generale è un problema che hanno in tutte e quante le nazioni del mondo. Per cui lui diceva giustamente, privilegieremo le nazioni in cui i nostri contenuti più forti sono già liberi o si libereranno in quel periodo lì, ovviamente. È inutile, secondo lui, lanciare Disney Plus senza avere i contenuti forti. Io non sono d'accordo, secondo me dobbiamo lanciare Disney Plus con i loro originals e tutti i contenuti disponibili in contemporanea, ovunque. E poi dopo magari sbloccare i contenuti man mano che si liberavano, punto. Dove vai vai ci sono i prodotti che puoi vedere. Esatto, per cui ci guardavamo, tutto il mondo si guardava The Mandalorian il 19 novembre, che è quello che fa Netflix con i suoi originals, cioè contemporanea mondiale. No, non dovrebbe essere un problema se vai in doccia. Se sentite la doccia di sottofondo, è Piero. Dopo viene anche nudo. Con le mie cosce tatuate. Per cui, non lo so, secondo me hanno un po' sbagliato in questa cosa qua. Sì, non ci sta, è una roba un po' vecchia come idea. Esatto, molto vecchia. Dove, cioè, vista che hai i tuoi contenuti originali, di cui sei... Ma sono tanti, non sono mica pochi, eh. Ragazzi, spacchi subito al day one, è assurdo non farlo. Cioè, lancio mondiale per tutto, almeno per quel contenuto lì. Poi lo so che è brutto presentarsi magari in Italia con solo Mandalorian, perché al lancio ci sarà solamente Mandalorian, The Originals. Ma forse c'è qualcos'altro, due o tre cose delle trenta che hanno presentato. Trovate tra l'altro l'articolo su Lega Nerd con tutto quanto. È ancora la mia sveglia? Non ci posso credere. È ancora la tua sveglia. Dio, caro. Sonno? Possibile? Sì. Scusate, adesso toglierò tutte quante le sveglie del cazzo. Torna nell'app giusta? Ah, non va. Non riesco a farla andare col dito. Volevo sbloccare, volevo annunare quello. Va bene, tre sveglie le abbiamo fatte. Domani tolgo le sveglie. Cosa stavo dicendo? Stavamo parlando dei... A parte che ho bestempeato tre volte, eh. Ma va bene. Stavamo parlando dei prodotti Disney nelle piattaforme. Ah, sì, sì, no. Stavo dicendo che è brutto. Cioè, mi rendo conto che dal punto di vista di Disney, loro hanno fatto questo ragionamento qua, lanciarlo in Italia con solo uno o due originals e solamente il catalogo che abbiamo disponibile, non è bello, no? Allora aspetti direttamente. Lo presenti e poi lo presenti a giugno in tutto il mondo. A te dice addirittura... Beh, cioè, se devi aspettare quello... Perché tutto il mondo arriverà comunque nel 2021, non ce l'avrà mai tutto quanto il mondo in quell'ottica lì, che devono uscire da quell'ottica lì, capito? Il problema è quello lì. Dovranno trovare il modo di bloccare tutto, in modo da non poter avere le copie pirata, tanto perché usciranno instant, Mandalorian sarà disponibile ad ogni puntata con i sottotitoli di uno stesso. Vabbè, comunque, polemica inutile, è così e basta. Quindi arriverà il 19 in America e noi ce lo ciucciamo, secondo me, verso aprile e maggio, non prima del 2020. Sono un po' di domande interessanti, a parte Morborani ripetuto un milione di volte. Domandone, questo nuovo servizio sembra davvero figo, dice Gizmo3486, principalmente per i suoi brand, ma in Italia i contenuti di Disney Fox naturalmente vengono trasmessi... Vabbè, è quello che abbiamo appena detto. Mano a mano che si libereranno, arriveranno su Disney+. È un'operazione che stanno già facendo da anni, in realtà, di cominciare a togliere, è un paio d'anni, e ti ho già risposto su questa roba. Quanti device si potranno utilizzare con un account e N1000 profili? Effettivamente di questo non hanno parlato. Hanno parlato solo di un generico 6,99 al mese, 6,99 al mese. Sì, non l'avevo ancora detto, il prezzo sarà 6,99 al mese, che è molto buono in realtà, partono molto aggressivi, perché sanno che il catalogo non è poi sta roba... Cioè, infatti, noi abbiamo sognato, no? Per anni, quando arriva Disney, avrà un catalogo infinito, però in realtà, il 99% delle cose le abbiamo già viste. Sono tutte. Le cose nuove sono gli Originals, che arriveranno inevitabilmente nel tempo. Cioè, non si può fare altrimenti. E poi stanno preparando una vagonata di serie tv spaventosa. Sono tantissime, trovate tutta quanta la lista di tutti gli Originals sul mio articolo su Lega Nerd, cioè, quello che presenta, con scritto, presentato Disney Plus, come è che è, non mi ricordo neanche, presentati Disney Plus, bla bla bla. E volevo vedere se c'erano altre domande interessanti, passiamo alla Star Wars, perché siamo già, beh, 8 e 17 in realtà, pensavo fosse passato più tempo. Infatti sì, ma è molto veloce. Ora siamo abbastanza easy. Sicuro poi a maggio e giugno ce lo riguardiamo in full HD. Esattamente, Mattia Bruschi, cioè, sicuro intende che lo pirateremo per forza. Cioè, inevitabile. Cioè, ci fai aspettare sei mesi. Cosa pretendi? Aspettare sei mesi, sono 40 anni che aspettiamo una serie di tv di Star Wars in live action. Mandalorian, finché non arrivi in Italia, non lo guardiamo. Vemo, certo. Vemo, certo. Ma hanno parlato di multiaccount stile Netflix oppure single account. Allora, il multiaccount stile Netflix è una roba che non esiste nel mondo, nel senso che solamente Netflix, diciamo, vi lascia condividere username e password con altri e chiude un occhio, cioè, non fa un controllo sull'IP. Io non credo che lo farà anche Disney. Costa 6,99. Smettiamo di fare i barboni della minchia. Veramente facciamo ridere i polli, cazzo. Vabbè, Netflix ce lo dicono loro, ci sta. Ma non ce lo dicono loro. Non ce l'ha mai detto loro, condividete l'account. Come no? No. All'inizio? No. A domanda diretta, a domanda diretta, farete controlli, la risposta è no, ma non è che sono loro che ci dicono... No, no, non c'era nella campagna pubblicitaria all'inizio che c'era la possibilità potete condividere con gli amici. No, non c'è. Sei sicura sta cosa? Sono sicurissimo, non c'è sta roba qua, non esiste, perché non c'è. Io ho anche fatto un'intervista... ero convinto ci fosse proprio la pubblicità che diceva con un video con i tuoi amici. No, stavo dicendo, visto che mi dicono che la tocco piano, la tocco piano perché facciamo ridere, perché vogliamo pagare a Netflix due euro al mese, capito? Facciamo ridere, facciamo ridere, dai. È una roba ridicola. 6,99, tra l'altro, come tutti i servizi moderni, attivabili, disattivabili, quando si pare, di che parliamo? Dai, l'ho attivato al primo mese, vi guardate Mandalorian, avete speso 7 euro, poi lo disattivate, se volete andate a fare in culo e ritornate poi fermati perché poi c'è Disney, Hulu, ESPN. Sì, quelli arriveranno dopo, ma sono in America però, quelli lì c'è roba americana. ESPN magari arriverà anche da noi, lo sport americano ci può interessare anche noi. Saranno tanti e diversi i servizi da pagare ogni mese, ma sarà un utilizzo diverso. Il problema è dopo... Vi dovrete ricordare di sdirli, dovrete iniziare a passare da una cosa all'altra se non volete spendere 50 euro al mese. Oppure spendete anche 50 euro al mese, visto che, come dico sempre, c'è un sacco di gente che sta spendendo adesso 70 euro di Sky, da anni, capito? Per guardare lo sport e la Formula 1 e queste quattro minchiate, capito? Di cosa stiamo parlando? No, infatti, dopo Sky svarirà, però Netflix... Farai i 4-5 principali che sono Netflix, Disney, Apple, Amazon 4, forse Universal, vediamo anche cosa succede, se arriva in Italia HBO, vediamo cosa fa, eccetera, eccetera, sono quattro servisti, tutti quanti tornano ai 10 euro, 40 euro al mese per avere tutto l'entertainment possibile e immaginabile, oppure ti metti lì a disdire, a rifare, come è normale che sia, e spendi comunque meno di quello che spendevi su Sky fino a dieci anni fa, che spendevamo delle cifre che non avevano alcun senso. Ma 699 sarà per il 4K che DR? Probabilmente no, avranno diverse fasce, ma non l'hanno detto, hanno detto a partire da, per cui magari sarà 999 per il 4K, vediamo, è normale, è normale, non credo che partiranno dal 720, per cui 699 probabilmente sarà due device 1080, come Netflix, vediamo, che costa di più, molto di più Netflix comunque, è base. Ti ricordavi sta cosa? Io me la ricordavo, mi ricordavo che l'ho letta proprio, mi ricordavo proprio che quando ti scrivevi c'era proprio scritto, cioè era un'opzione che ti davano loro. Sharing nel senso di guardare le compagnie e non di condividere l'account, dai. No, no, perché avevo parlato di account. Io mi ricordavo proprio questo, infatti è stato uno dei motivi per cui l'avevo fatto questa cosa qua, perché era, era, perché te l'avevate il cielo. ma ho detto, cazzo, tanto lo fanno già, allora, ok, ho detto una cazzata, va bene, io non me la ricordavo assolutamente, anzi, non me avevano detto il contrario, però va bene. non l'hanno detto esplicitamente che si può fare, ma quando glielo avevi chiesto tu i Tommy, loro dissero che non gli interessava. Esattamente, quello volevo dire, infatti, io mi ricordavo sta cosa qua, cioè durante la mia intervista, però evidentemente poi è uscito un'altra intervista in cui invece diceva, mi piace. Oppure questa era Netflix Italia, questa era Netflix Italia. Ma sai, poi tanto ormai lo facevano tutti, per cui gli conveniva a cavalcarla. Ma è comunque stata una gran pubblicità per loro. Ci piace sta roba qua. Ma se non ho già risposto, dall'articolo sui Garnerta, l'altra questione che ho tirato fuori e che pensavo fosse delicata è quella dell'account sharing. In pratica, visto che gli ammunamenti non si sa, non so qual è la domanda, non si sa cosa farà Disney, non credo proprio che lo faccia comunque. Non ci sarà account sharing, sono sicuro al 99%, proprio, non penso proprio. E vale le mie risposte di prima, smettiamo di fare i barboni della minchia di voler pagare un servizio 2 euro al mese invece che 6,99. Cioè ci vogliamo risparmiare 4 euro al mese, capito? Facciamo ridere ai polli, proprio ai polli. Vi sputtanate i soldi mille stronzate e volete risparmiare 4 euro. Dai, vabbè, vabbè. Vaffanculo, dai. E che dopo 4 lì, 4 là, 4 là, 4 là. In culo fare. Con un sacco, dai. Mi senti? Vabbè, se ti rimballo Skype però è scorretto, va bene, però è inevitabile che lo faccia perché noi siamo nel nostro mondo fatato dei nerd, ma là fuori ci sono milioni di 40, 50, 60 anni che non hanno la minima di cosa c'è Netflix e che pagano ancora l'abbonamento al satellite, hanno la parabola sul tetto, capito? La pre-storia. Hanno la parabola sul tetto e pagano 60, 70 euro di abbonamento al mese senza neanche cosa, perché tanto l'accredito in banca. la gente che manca lo guarda a Sky, capito? È qui, è qui. Io vado sui 30 al mese. È qui il Neandertal. Manco lo guarda più Sky, però continui a pagare. No, non è vero, è di brutto, adesso c'è anche Elementari Channel. Tanto, ma arriva in banca cazzo me ne frega, diamogli 50, la mazzetta, capito? Sky è utile solo per il trono di spade, esatto, ma fai Sky Now e abbonati quel mese e poi dopo disdici, come faccio tutti quanti gli anni, fuck, 15 euro, poi guardo tutto quanto il trono di spade e vai a fare in culo Sky. Lo sport americano, sempre molto light sono, lo sport americano, speriamo che non ci guardi nessuno di Sky, sennò non andrò mai più in nessuna anteprima. Affanculo Sky. Lo sport americano è licenziato da varie Sky e da zone premium per cui non penso potranno trasmettere in Italia tramite ISBN, anche qui vediamo cosa succederà nei prossimi anni, adesso che hanno questo servizio cambierà tutto, cambierà tutto quanto il licensing, si riprenderanno le più cose possibili perché devono spingere il più possibile, capito? Su queste robe. adesso che hanno scoperto che negli ultimi dieci anni esiste una roba come Netflix che streama su internet, no? Invece che via satellite e che si può vendere a soldi buoni. La parabola! La parabola! Si può vendere a soldi buoni, capito? Cioè puoi fare cento milioni di abbonati a dieci dollari, a questi qui gli sono venuti i dollari al posto degli occhi, quindi figurati se adesso non cambia completamente tutto quanto il licensing, cambierà, sarà una rivoluzione molto grossa. Adesso che diciamo Netflix è arrivato sulle major, no? Questo voglio dire. Però in effetti il classico metodo è la tessera pirata di stream, di stream, mi lasciano le griglie aperte e tutti si abbonano e poi dopo anni chiudono le griglie. E vabbè, Simone, cioè è normale e comunque vale solamente per i quattro nerd in croce che fanno queste robe qua. Non pensiamo che sia la normalità perché non è così. Il mondo reale è un'altra roba, ragazzi, cioè non funziona così. non è che se te hackeri Sky allora tutti quanti lo fanno, cioè non si ragiona così. Smettete di spottonarvi soldi negli iPhone di merda, questo il solegeo, per favore, per favore. Barboni a parte, comunque si potrà guardare sui dispositivi e se non fanno controlli su IP l'account sharing è automatico. Questo Simone l'hai detto a qualche parte o è una tua previsione? Perché non hanno detto questa roba qua, io non l'ho vista. È chiaro che ci saranno più dispositivi, non si sa quanti saranno e come saranno gestiti ancora, questo voglio dire. Io spendo 40 euro di Sky, 5 di Amazon, 13 di Netflix e più di 30 di Internet. Vedi te, appunto, vedi te, di che cazzo pagano? Voi poi volete risparmiare 2 euro su Netflix, capito? Grandi Ragazzi, l'Invidia Mille, grazie a te. C'è una clip, famose, grabbe nero, non so cos'è, le grabbe nero, clipped, ok, avrai clipato una mia bestemmia, immagino, dopo vado a vedere. Se c'è un servizio come da zona 9,90 Disney Plus lo pagherei anche 20 euro, esatto, costa 6,99 tra l'altro. Simo, era solo una constatazione, ok, Simone, eeeh, dai, Simo, smetti, mamma, non lo per cazzo. domandina, ma togliere le video in loop e mettervi full screen, in effetti, beh, questa cosa qui anche io me la dimentico sempre, abbiate pazienza, dai, eccoci qua, guarda come siamo belli, guarda di Chicago bruciato. però era bello, cioè perché Disney Plus in realtà è figo, no, non è vero, come dicevo prima, non hanno innovato niente, però in realtà più o meno questo abbiamo detto, cioè questo vogliamo dire. questo quello è, hanno presentato un sacco di cose interessanti, sembra che il Marvel Cinematic Universe si sposti in televisione, in tv, con queste tre serie spettacolari, Loki, Wanda, Evisione, Falcon, e The Winter Soldier, e già queste sono tre bombe della Madonna, insieme a Cassian Andor, la serie che uscirà nel 2021 di Star Wars, la seconda, The Mandalorian, per cui insomma tanta tanta roba e questo più o meno è stata la notiziona di Disney Plus. Volevo recuperare al volo, ve li dico proprio al volo, ma sono un'infinità, sono anche troppi, la lista degli origini, Lidia e il Vagabond hanno fatto vedere che uscirà, sarà il primo film esclusivo per Disney Plus. Star Wars, Clone Wars stagione 7, Mandalorian, Cassian Andor, l'hai già detto, e poi anche, questa è carina, una nuova docu-serie, e questo ce l'hanno per ogni property, fanno una docu-serie, docu-serie vuol dire una serie di documentari. Quello che una volta erano i seti speciali nel Blu-ray e adesso si fanno la serie, bravi. Una serie di documentari in dieci puntate, da un'ora ognuno, di dieci documentari, in questo caso incentrata sul dietro le quinte dei film di Star Wars, potrebbe essere interessante. È fighissima sta cosa, ma qui, anche qui ci fanno capire quale sarà il target di sta roba qui, la possibilità di poter fare quello che vuoi. Sì, esattamente. Perché non hai nessun tipo di ambizione, tra virgolette, non è che devi incassare un milione di dollari. No, infatti, qui, ecco, anche questo è bravo, hai detto una cosa molto buona, perché finalmente passano dalla mentalità uscita al cinema alla mentalità Netflix. La differenza qual è? La mentalità uscita al cinema è devo macinare il più soldi possibile in un mese, due mesi, no? Quindi deve essere un film fatto in un certo modo, promosso in un certo modo, che piace a tutti, bravissimo, devo pigliare tutti quanti perché devo fare un bel tentpole da almeno un miliardo di dollari, no? Invece Netflix come ragiona? Devo creare più contenuti possibili per dare la percezione ai miei abbonati che ci siano sempre cose nuove, no? E che quindi valga la pena pagare un mese in più. Così ragiona Netflix. Non è così importante la qualità, non è così importante il target, è più importante la quantità. E infatti si vede. Mi tocca dirlo. fermiamoci, per quello che riguarda i film, sono d'accordo, la qualità purtroppo non è eccelsa. Le serie, meglio dei film, sul discorso documentari siamo a dei livelli stratosferi. Molto bene, vabbè comunque sono alti e bassi. Io sono stracontento, riesco sempre a trovare qualcosa da guardare. Il minimo comune denominatore è tanta roba. Soprattutto anche ogni giorno cose nuove. Qualità, quantità e costo impagabile. Esattamente. Devi avere quella percezione lì. Anno ti faccio notare che c'è il 18% di corrente. adesso in realtà provo a attaccare la spina. Per cui bello questo cambio di mentalità anche per Disney sui suoi originals. Marvel, velocemente, adesso abbiamo parlato anche troppo di Disney, adesso passiamo a Star Wars. Hawkeye, Loki, Wandavision, Falcon e il soldato d'inverno, What If che è una serie animata, bomba atomica, Marvel 616 che è una docu-serie incentrata sui 12 litri e quinte della Marvel, quindi uguale a quello di prima però per Marvel. Marvel's Hero Project non mi ricordo cos'è, un'altra serie probabilmente, poi Disney, High School Musical, The Musical, la serie sui High School Musical, Mighty Ducks sui paperi, In Camp Paint non mi ricordo, Cinema Relics, docu-serie incentrata sui dietro le quinte di Disney Mastery, uguale, quindi ogni proprietà avrà la docu-serie sul dietro le quinte, Muppetslide, Book of Enchantment, diverse robe, eccetera, eccetera, Pixar, Monster at Work, la serie di Monster & Co, questo è molto figo, nuova docu-serie incentrata sui le quinte della Pixar, stessa roba, Toy Story, Forky Asker Quest, una serie di corti dedicati ai personaggi di Toy Story 4, Forky è il nuovo personaggio, poi National Geographic, The World According to Jeff Goldblum, bomba, tanta roba, ho già le orecchie grandi come lui, The Magic of Animal Kingdom, non mi ricordo cos'è, Animal Kingdom è un parco all'università, sì, però non mi ricordo cos'è questo qui, forse anche questa è una docu-serie incentrata su Animal Kingdom, per sì, dai per forza, cosa vuoi che sia, Recon, Rogue, Tribble, bla bla bla, il prezzo c'è 99, insomma questo era Disney Plus, insomma se poi dopo integreranno anche tutto il catalogo Fox, saranno cazzi per i diabetici, scuolatici per i diabetici, hanno già detto, sicuramente, sarà questione di tempo, dal day one ci saranno tutte le 30 stagioni dei Simpsons, ci saranno Avatar, ci saranno diverse eroghe, praticamente sarà come la nostra stella in re dei Blu-ray, Alien, Predator, Star Wars, Disney, Marvel, lo dico già da mesi barra anni, ma la vostra collezione di Blu-ray diventerà ulteriormente inutile, totalmente inutile, proprio pezzi di plastica a prendere polvere, esatto, ok, direi, ma anch'io in realtà, ho fatto il mese scorso di prenderla e metterla via, non so dove, io molti li ho messi via, credo dai miei genitori, a casa dei miei genitori, vai, andiamo a Star Wars, basta, detto questo, questa era Disney, passiamo invece a Star Wars, ok, allora, vedete sotto, spero che funzioni sta cosa, vedete sotto delle riprese che abbiamo fatto proprio ieri sera al volo, non sono neanche montate, sono girate con l'osmo al volo, ci siamo fatti una camminata in giro per lo show floor della Celebration, così ve lo guardate anche voi, c'è tutto quanto il market, i diversi negozi, i palchi della, come si chiama, lo spettacolo che fanno, Star Wars show, dello Star Wars show, i negozi principali di Hasbro, Lego, Funko e compagnia, bella, ma come vedete anche tantissimi altri negozi, tutti quanti i tipi, per cui insomma, mi sembra molto figo, secondo me è la miglior Celebration, a cui sia stato, a livello, hanno avanzato tantissimo il tiro, perché la fiera è proprio bella, la fiera è proprio figa, vedete, è un unico spazio gigantesco, come vedete, commenta un po' te che io attacco l'alimentazione, ma secondo me hanno fatto un salto di livello non indifferente, sia a livello organizzativo, con parecchie, ho il microfono Antonio, ce l'hai? ciao, oltre a parecchie lamentele, da parte soprattutto dell'appassionato, non dell'utente diciamo, perché? perché hanno alzato il tiro, sia come organizzazione, sia come previsione di ingressi, anche perché vi ricordo che hanno fatto sold out, fino a domenica, due mesi fa, senza sapere manco cosa ci fosse, perché questa cosa è abbastanza assurda, se consideriamo che è un evento dedicato esclusivamente a un brand, a Star Wars, per cui tanta roba, nonostante la gente si lamenti, ci sia questa finta ondata di malcontento, in realtà i numeri dicono totalmente il contrario, per cui hanno alzato il tiro, bravi, l'organizzazione da quel poco che abbiamo visto per ora, è molto meglio dell'edizione di Orlando, che è stata secondo me sotto diversi punti di vista, di vista pessima, mentre qua, volente o nolente, hanno un'organizzazione quadrata, purtroppo ci sono diverse cose nuove, che un po' fanno rodere, soprattutto a quelli come noi, che siamo media, che veniamo qua per lavorare, per cui abbiamo una sorta di pretesa di poter accedere a qualsiasi cancello, panel, negozio, poterci acquistare le cose senza dover fare ore di fila, in realtà non è così, i media vengono trattati esattamente come il pubblico, esattamente come il pubblico, a meno che non hai qualche canale preferenziale per poter assistere ai panel, devi fare esattamente le cose che fa nel pubblico, per cui è un po' assurda questa cosa qui, continuo a riportarla assurda, ma se nel negozio ufficiale, ragazzi, è realtà, gente ha fatto undici ore di fila per comprarsi il merchandise ufficiale, undici ore di fila, non è uno scherzo, è una mia amica, è stata là undici ore per comprarsi il merchandise ufficiale, amica tra l'altro venuta a lavorare per un web magazine, e insomma è così, vuoi comprarti le esclusive, devi fare lotteria, se la vinci bene, se non la vinci, puoi venire l'ultimo giorno della fiera e sperare che ci sia rimasto qualcosa, gli altri anni erano molto più elastici, l'organizzazione lasciava un po' a desiderare, però anche proprio perché lasciava desiderare, c'era qualche spazio per poter convincere magari a venderti un action figure, o magari durante le ultime ore di ogni giorno andavi lì e ti davano il set, quest'anno no, se volete, alla Lego ci ha detto venite domenica dopo le due, all'Asbro ci ha detto venite lunedì dopo le due, all'Asbro ci ha detto venite domenica dopo le due, lo stand della Funko vuoto, insomma è file, 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 file per qualsiasi cosa, però è tutto molto quadrato. Però io dico, se esci dalla follia delle esclusive, annulla le esclusive, fai conto che le esclusive non esistono, si fottano le esclusive, guarda dove siamo, cioè ci sono cento negozi pieni di roba bellissima, chi se ne fotte? Sì, 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 assolutamente, assolutamente, non è, cioè, bomba atomica, guardate che meraviglia che è il market della Celebration quest'anno, ci saranno duecento negozi, uno più quello dell'altro, cioè tra l'altro poi, io giro molti Comic Con, la cosa che mi piace tantissimo della Celebration, che mi strano, che diciamo mi fa strano ogni volta, è che ha lo stesso numero di negozi di un New York Comic Con, però tutti hanno roba solo di Star Wars, cioè è una roba impensabile, e spesso hanno la stessa roba proprio, sono tutti negozi con le stesse robe, e infatti, comprare non è facile, perché comunque devi farti un minimo di lista, e dire, ok, qui costa così, sta cosa qua, vado nell'altra, quanto costa, cioè, è un lavoro, la stessa maglietta, se l'hanno quattro negozi diversi, quattro negozi diversi, a quattro prezzi diversi, o qui guarda il poster, non solo, un'altra cosa, action figure authority, se vuoi scatolare la roba, tutto quello che riguarda Star Wars, c'è, un po' di magliette, vediamo adesso, proprio due croce, c'è anche lo stand della Wilson, che fa i palloni da football, da calcio, da basket, c'è lo stand della Wilson, ma l'ho inquadrato, dopo lo guardiamo, e soprattutto, sempre a confronto, dell'edizione del 2017 di Orlando, ci sono un sacco di photo set, stratosferiche, stavolta, veramente, veramente, molto belle, molto, molto belle, TIE Fighter in scala 1 a 1, X-Wing in scala 1 a 1, il corridoio del Millennium Falcon, che nel 2017, era riservato, solo a chi era sopra lo stage, faceva parte dello stage, adesso ci può fare la fila, per fargli la foto, c'è un bellissimo stand, di Galaxy Edge, stratosferico, anche quello, da vedere bene, con un sacco di cose, con ricreato, c'è un po' il fondale, dove, sì, però, mi sembrava in stile desertico, ah, Galaxy Edge, tutte le torri, sì, ecco lo stile lì, ma forse mi confondo, ecco qui, guarda, se vedete adesso, lo stand della Wilson, guarda che bello, il pallone del football americano, con tutti quanti palloni personalizzati, di Star Wars, eccetera, questo è quello di Galaxy Edge, vedi che mi sembrava desertico, in stile, no? ma in teoria, è lo stile Batuu, perché adesso devono dargli una connotazione ben chiara, per cui un pianeto nuovo, però sì, ricorda sempre, comunque, quell'architettura da Tatooine, desertica, un po' rocciosa, sì, 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 ieri, quando l'ho visto, mi sembrava quello lì, però ci sta, ovviamente, è sempre Galaxy Edge, tutta l'area dei tatuaggi, quest'anno ce ne sono ancora di più, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, le auto, lo stand Lego, c'è una bellissima esposizione, di 34.000 minifigure, Lego, qui si vede in Mortal, che è il nuovo gioco in VR con Oculus, qui avremo il panel, si può provare, eccetera, e qui a destra si vede lo stand di Funko, che era chiuso, perché erano le sette e mezza di sera, qui vi faccio vedere Oculus, diciamo, vedere in Mortal, appunto, esattamente, stand Lego e stand Hasbro, c'erano ancora le file per comprare le esclusive, Funko, niente, finito tutto, come tutti gli altri anni, qui si vede, vedete che ci sono le file vuote, esatto, vedete, lottery winners, devono avere anche un documento, bla bla bla, eccetera, eccetera, è quello che vi spiegava prima Roby, poi giriamo, c'è il tattoo pavilion, ci sono ancora altri negozi, tanto per cambiare, ma io ho detto 100, ma sono molti di più, c'è qualsiasi cosa, è enorme, forse la più grande, che hanno sempre fatto, secondo me hanno raggiunto, anche tutta la parte, è quello che vi dicevo, ti puoi mettere dentro, e fingere di essere un Funko dentro la scatola, qui si rivede un po' di più, lo stand di Funko, mi sa che siamo arrivati in fondo, no in fondo, in realtà l'ultimo video si chiude con Piero, dopo andiamo allo stand dei tatuaggi, e volevo leggere un po' di commenti, prima che riparta in loop, così vi ricommento anche la prima parte, che non siamo riusciti a commentarla, ho visto che ci sono diversi problemi, però dovrebbe andare adesso, se non vi va lo stream, ricaricate la pagina, giovani, è Twitch, è normale, e questo mi piaceva, è come andare a look, e stare 12 ore in fila, per farsi fare uno sketch da zero calcare, sono d'accordissimo, cioè per me è inconcepibile, non è, hai la fiera più bella del mondo, passi la giornata, per avere un disegno da zero calcare, ma fatti un giro, ma fatti un giro cazzo dai, guardati i negozi, guardati con me, ecco qui hai visto che c'è la Piero, adesso riparte, cioè per me è inconcepibile, a meno che non fai diverse giornate, oppure o, per me è inconcepibile, poi invece sono quelli che dicono, io vado a look unicamente per fare quello sketch, il mio unico obiettivo è fare quella cosa lì, oppure io vado a Chicago, a Celebration, unicamente per comprare, o per farsi la foto con l'attore, o per farsi l'autografo con l'attore, tra l'altro, Celebration storica una, perché sono vent'anni che esiste la Celebration, anche questa è iniziata nel 99, come Episodio 1, come Lego Star Wars, insomma è rinato tutto nel 99, e storica perché è la prima edizione degli ultimi anni, soprattutto di quelle in cui vado io, in cui non c'è Mark Hamill, per cui per molti, ma siamo sicuri che non arriva l'ultimo, sì sì, ha postato il suo, a meno che non sia nel panel principale, ma ormai avrebbero già dichiarato, sì dai non ci sta che faccia lo scherzo serio, con saluti, tutti poi si presentano, capisco che sia stupido, così no, twist più banda usa, state ancora commentando, diciamo i problemi tecnici, ma a me sembra che vada benissimo lo stream, nel senso onestissimo, mi sto guardando anch'io lo stream su, leganer.com slash live, se volete, tra l'altro qua non c'è neanche tutta questa connessione, cosa che mi fa notare, mi cazzo, ma per terra c'è la moquette, questa cosa è assurda, perché nelle altre celebration non c'era la moquette, a Orlando non c'era, me lo ricordo bene, e sembrava un po' la fioristica era senza moquette, esatto, invece questa c'è tutta la moquette, ma questa è la più grande che abbia mai visto, per cui immaginate il palafiera del cartoon, ho letto che è la più grande d'America, mi sa, ecco appunto, peggio ancora, non è particolarmente pulita comunque, no, è per forza, si vede che, è fatta proprio beggiolina, perché così non si vede la merda, è disposta su più piani, è un po' più complicata, siccome qui vedete unicamente, diciamo il piano principale, con tutto lo shop floor, la exhibit hall, esatto, ma ci sono diverse robe, esatto, e guardate che roba, ma qui è un decimo quello che sta inquadrando adesso, sì, cioè per farvi capire, non lo so, ognuno ragiona come vuole, però hai tutto questo ben di Dio, perché ti devi fare dieci ore in fila, allo shop per comprare una maglietta, vabbè stai qua diversi giorni, cioè se stai qua cinque giorni, ci sta che uno te lo spende, primo giorno, si creano amicizie, si schiacchiera, però undici ore, per uno shop, cioè io le ho fatte le cose dello shop, ma parliamo di due ore e mezza, certo, e già era una follia, undici, ma di cosa stiamo parlando? non lo so, mi sembra veramente allucinante, non lo so, non l'ho visto lo shop, ieri ci siamo affacciati, ma non sono, non si è riuscito a vedere quante casse avevano, che già Orlando ne avevano tipo 20, per cui chissà qua quante ne ha importate, e comunque, c'era da fare la fila per entrare, e c'era da fare la fila anche per uscire, a Orlando, cioè tu fai la fila per entrare, poi stai dentro, c'è diciamo un enorme area, in cui ci sono tutti quanti il merchandise ufficiale, della Celebration, ti prendi le tue cose, poi fai la fila per andarla a pagare, ovviamente, che è un'altra fila, un'ora, nonostante ci fossero 15 casse, se non ricordo male, a Orlando, qua ce ne saranno almeno 20, immagino, non lo so, non l'abbiamo ancora visto, e qua c'è un po' di Area Food, se non ricordo male, è l'Area Food, sì, l'Area Food, che è molto grande, sembra sponsorizzata da Amazon, stando al fogliettino, qui non c'è la moquette, qui non c'è la moquette, ma ci vedete dove inizia, però lì adesso, ovviamente l'hanno messa solo nella, perché l'Area Food, l'hanno sporcata totalmente, tante volte, la moquette, che si sono decisi, di togliere quella merda, guarda com'è bella pulita, tra l'altro, proprio bellissima la moquette, dell'area, della fiera di Chicago, che si chiama McCormick, è molto molto figo, l'area Star Wars Show, dove faranno le dirette, oggi dovrebbero cominciare le dirette, è veramente molto molto figa, molto più grande, molto più ampia, l'anno scorso, il 2017 era un po' più piccola, Londra ancora più piccola, però insomma, hanno alzato il tiro, perché ricordo che a Orlando, era molto figa, solo la parte dove c'era la diretta, mentre tutto il resto, era un po' lasciato al caso, mentre quest'anno, hanno curato qualsiasi, qualsiasi angolino, e non ci sono mai spazi morti, no guardate quanto sono stretti, poi i corridoi, sì esatto esatto, bravi bravi bravi, sembra di essere tipo, a un mercatino, sembra il Cartoon Mix, tutto Star Wars, pazzesca sta cosa qui, immaginatevi il Cartoon Mix, però completamente Star Wars, 10 volte più grande, no no, il Cartoon Mix è bello grande, insomma, tre volte più grande, no dai, secondo me è come il Cartoon Mix, questo è il Tower of T-shirts, questo qui c'è anche, New York, e questo qui è l'unico, che ha tutto, non ha solo Star Wars, qui entri dentro, è un'enorme torre, che ha esposto dentro, ma anche dentro, adesso non sono entrato, ma dentro, ha tutto quanto, molto figo, sì, giochi usati, giocattoli usati, giocattoli nuovi, tantissimo vintage, molto bello, tantissimo vintage, i prezzi onestamente, secondo me, quest'anno hanno alzato un po' tutti i prezzi, probabilmente vedendo anche che era sold out, hanno deciso di mettere mano sui prezzi, dicendo vabbè, sta diventando esclusivo, per cui alziamoli un po' di più, ci sta, sta diventando un brand sempre più ampio negli Stati Uniti, e nonostante in Italia invece stia calando spaventosamente, negli Stati Uniti evidentemente sta diventando qualcosa che rasenta quasi la religione, perché tutti hanno le magliette Star Wars, tutti sono in fila, tutti sorridono, gentilezza, cordialità, ordine, siamo stati un'oretta, tra l'altro siamo arrivati alle sei e mezza e chiude alle otto, e fino alle otto è come se, cioè, non abbiamo percepito nessuno, andate via, chiudiamo, file ancora, gente ancora in coda, va bene, è rimasto anche il dubbio che chiude alle otto in realtà, perché, eh sì, non sembrava, siamo andati via alle sette e mezza, non c'era alcun tipo, non c'era nessuno che cominciasse a dire uscite, esatto, non lo so, c'è da dire che a Chicago, anche in aeroporto, siamo rimasti assolutamente, oggi lo scopriamo, cazzo, zero file, zero file, organizzazione perfetta, l'immigrazione più veloce della storia, ma sai che io, quando sono venuto per la prima volta, nel 99 in America, ho fatto scala Chicago, notai la stessa cosa nel 99, rimasi, se vai a Los Angeles o a New York, sono molto più stronzi, c'è molta più gente, vabbè, stiamo divagando, voglio chiudere, perché dobbiamo chiudere, chiudiamo solamente con, diciamo, i panel di oggi, no? C'è, episodio 9, oddio, mi hai colto impreparato, apriti il calendario un attimo al volo, che io non ce l'ho, comunque, episodio 9, ci sarà tutto quanto il cast, mostreranno il trailer, inevitabilmente, solo che io qui non ce l'ho altro calendario, ce l'hai, ce l'hai solo che devi andare giù, no, non ce l'hai proprio, calendari, no, non ce l'ho, adesso me lo apro io, Morborani, aspetta, non so perché non ce l'ho al telefono, mentre su Gmail ce l'ho, allora, Star Wars episodio 9, c'è oggi, Vader Immortal, e le creature, gli alieni di, ma vabbè, niente di che, c'è anche quello, Making Solo dell'ILM, c'è anche Making Solo di, di ILM, però sul Celebration State, oggi c'è anche Vader Immortal, l'ho detto, di grosso c'è episodio 9, e Vader Immortal, allora, vuoi parlare di episodio 9? Bah, allora, episodio 9, oggi c'è questo fantomatico, attesissimo panel, c'è questo grande mistero del trailer, della featurette, non si sa se si vedrà, non si sa se lo lanceranno, molti dicono che lo lanceranno, alcuni dicono che si vedrà solo all'interno della sala, e non verrà condiviso su YouTube per il pubblico, c'è questo discorso che sono nel pieno della promozione di Avengers Endgame, per cui non è detto che diano questo risalto al trailer, per cui per quello c'è la possibilità, come nel 2016, di vederlo solo, esclusivamente per quelli che saranno dentro la sala, per poi rilasciarlo qualche settimana dopo, Rogue One fecero così, è un viaggio che ci siamo fatti noi però, perché ieri ci hanno detto tutto altro, in realtà ci hanno detto che qualcosa sicuramente vedremo, ma questa è la cosa più scontata di tutte, ma non sappiamo se la vedranno anche gli altri, forse il giorno dopo. Ha detto che il giorno dopo arriverà qualcosa per tutti, per cui che cosa vuoi che arrivo? Non era certo, era una sua sensazione come la mia che non fosse uscito. Io sono d'accordo con te, cioè per me non ha alcun senso far uscire il trailer a 15 giorni dall'uscita di Endgame, ce lo possono ottenere per dopo, e oggi lo mostrano solamente a chi è dentro al panel della Celebration, quindi se ve lo guarderete in streaming andrà a nero, e ve lo pigliate in intercooler, però è anche vero che è una celebrazione importante, è un film importante, chiude tutta quanto la saga degli Skywalk. Io la penso come te, però in questo momento Avengers Endgame sta spaccando veramente tutto, per cui in questo momento Star Wars è abbondantemente al secondo posto, per cui The Last Jedi non c'era nulla, infatti il trailer è disponibile per tutti Instant, non c'era nulla in competizione in realtà, stavolta è veramente un grossissimo punto di mano. Perché tu hai fatto l'esempio di Solo, però Solo era un film minore, capito? Quello ti voglio dire. Solo non abbiamo visto niente in realtà, perché non c'era nessuna Celebration l'anno scorso, per cui... Ah giusto, per The Last Jedi però non c'era nulla, The Last Jedi non c'era nulla, per cui hanno fatto panel, finito, non avevano detto che c'era il trailer, hanno detto ci abbiamo una sorpresa, e ho i trailer, ed era contemporaneamente su YouTube. Però era già uscito il teaser? Era già uscito il teaser? Era già uscito il teaser. Il trailer la Celebration. Esatto, il teaser, il primo teaser, sì, è nel secondo? Eh, il trailer quello l'Ugo. Lo scopriamo tra tre ore. Tre. Tra due ore. Tra un paio d'ore, Alle undici nostre, le sei vostre, inizia il panel, ve lo potete guardare in streaming, su disney.com, non mi ricordo dove. Comunque, altra cosa, c'è una riservatezza, una segretezza, incredibile, inspiegabile, anche con i vari responsabili, che dovrebbero sapere, non sanno, nessuno sa nulla, è proprio una roba strapazzesca, per cui, insomma, lo scopriremo tutti, tra un'oretta, tra un paio d'ore. Quello è il panel di oggi, poi vabbè, c'è Vader Immortal, ci vogliamo vedere, i più importanti me ne sono segnati. Le anticipazioni su Vader Immortal, no, non c'è altro, no? No, oggi, i due più grossi sono questi, domani vedremo quelli sui parchi, su Rebels, che secondo me è evitabile, domani ci sarà quello di Jedi Fallen Order, che c'è un gran hype per questo videogioco, domenica ci sarà il Mandalorian, e la settima stagione di Clone Wars, e il 15, che è l'ultimo giorno su Resistance. Un po' di domande finali, poi stacchiamo, perché dobbiamo fare altro, tra l'altro ci trovate su il cortocircuito di multiplayer, tra poco, se volete seguirci, anche lì, diremo quattro cazzate, in realtà ripeteremo velocemente le certe cose che abbiamo detto qua, però, se volete seguire il cortocircuito inizia alle 5, alle nostre 9, che sono le 5, no, se è iniziato alle 3, inizierà alle 4, alle 4, non so, quando inizia il cortocircuito? esatto, però prima rimanete qui, un po' di domande al volo, ma qualche panel riuscite a vederlo? tutti quanti riusciamo a vederli? fortunatamente sì, perché ce la facciamo, sì, ma abbiamo lavorato direttamente con Disney Italia, abbiamo accesso a tutti quanti i panel, ci mancherebbe, il pallone da football americano di Darth Maulo, che si sta ancora commentando prima, ma sbaglio, oppure ho visto Pietro Tatwin, sì, è qui con noi, in camera con noi, è molto figo, ha appena fatto la doccia, invece ha senso, lo proiettano in sala prima di endgame, infatti questo non ci avevamo pensato, questa qui è una delle tante cose, e se lo proiettano in sala, vuol dire che l'hanno rilasciato qualche giorno prima, è questo che dico, esatto, e che dice anche lui giustamente, esatto, però un conto che lo lanci a due giorni, per cui non vai a interferire in nulla, ormai il dado è tratto, un conto due settimane nel pieno, dei junket, delle interviste, di tutto, quello che mi fa strano, però ormai, vediamo che, onestamente non ho nessun tipo di certezza, ma infatti, ecco dove si vedrà esattamente il streaming, il panel, non mi ricordo, starwars.com dovrebbe essere tutti i collegamenti, anche starwars.com sicuramente, adriano, ragazzi complimenti per il vero hype, e merito della vostra passione, grazie mille, grazie Michele, sempre numero uno, Michele, e direi che possiamo chiudere qui, allora, questo video qua, tornerà in streaming, in replica, su legalnare.com, slash live, sul nostro canale Twitch, all'infinito in questi giorni, quindi se vi siete persi l'inizio, eccetera eccetera, no problem ragazzi, vi rompiamo le palle all'infinito, e faremo più o meno uno al giorno, come oggi, 8 ore 8, di Chicago, ore 15 italiane, in cui faremo appunto il recap, di cosa è successo il giorno prima, e le previsioni di quello, che vedremo, quella giornata lì, come abbiamo fatto oggi quindi, ci rivediamo domani quindi, sempre alle 15, da Chicago è tutto, ho sempre desiderato di dirlo, a voi studio, a voi studio, se la faccio a staccare, che non me lo prendo, aspetta rifacciamo, si ok ragione, metti il tastino lì, sono pronto a premerlo, ok vai, guarda come si vede bene, Chicago adesso, ha cambiato il sole, sembra che ho attaccato, un poster alla finestra, in realtà siamo a gibullo, zio che è, beh che roba, da Chicago è tutto, a voi studio, a buonancio, a buonancio,